salve bentrovati questo in questo nuovo tutorial andiamo a vedere come realizzare un qualcosa che forse avete visto online viene anche venduto personalizzato insomma stampato comunque con la stampante 3d è un oggetto devo dire la verità e l'effetto che fa per quanto semplice vi farò vedere veramente semplice da realizzare l'effetto che fa è molto simpatico parlo della io l'ho chiamato testo bifronte ovvero un testo fatto da delle lettere sagomate in modo particolare che è possibile vedere da due angolazioni precise e rispetto all'angolazione il testo visualizzato è diverso io farò un esempio scriverò come frasi insomma come parole prova testo per due motivi uno perché sono solo cinque lettere quindi semplice e poi perché il numero di lettere è lo stesso però vi faccio vedere come poter ovviare nell'eventualità in cui le due parole da dover far intersegare da dover far coincidere siano di lunghezze differenti e sarà molto molto semplice allora la prima cosa da fare naturalmente è andare a creare il nostro testo è fondamentale il tipo di font che utilizzeremo deve essere un font di tipo monospace ok quindi un font dove tutte le lettere occupano esattamente lo stesso spazio ok la stessa proporzione io ne ho selezionato uno che ho trovato sul catalogo di adobe e mi sembrava molto 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 simpatico tra l'altro sono appassionato anche dell'omonimo cantante si chiama moby eccolo qua vedete è un font molto semplice io potete ovviamente cimentarvi ad utilizzare i maiuscoli e minuscoli però diciamo potete tranquillamente anche scrivere solo il maiuscolo come vedete le lettere vedete hanno la stessa larghezza ovvero lo spazio occupato dalla singola lettera è esattamente il medesimo per ogni per ogni carattere quindi l'altezza qui ovviamente cantate andrete a scrivere è quella della singola lettera ok diciamo che ho realizzato le mie lettere a questo punto esplodete il testo quindi cliccando col destro e fate explode test e avete le singole lettere separate allora la prima cosa che bisogna fare è andare a misurare quella che è l'altezza effettiva e la larghezza effettiva di questo di queste lettere e lo facciamo con lo strumento ovviamente dimension vedete che vi dirà che questa dimensione è over constraint perché in realtà le lettere sono già tutte bloccate non fa nulla noi dobbiamo scrivere dobbiamo creare una una misura guida quindi va bene lo stesso facciamo per l'altezza vedete non è esattamente 20 come avevamo scritto è leggermente di meno a questo punto andate qui nei parametri abbiamo appena creato e diamogli dei nomi ok a queste due questi due valori nello specifico venti della larghezza chiamiamolo v questa come in inglese dell'altezza h ok ci serviranno perfetto a questo punto possiamo fare l'estrusione delle lettere quindi strumento estrudi le selezioniamo tutte va bene se le selezioniamo tutte insieme ok e gli diamo come spessore esattamente la doppia v di prima in modo tale che viste dall'alto in questo modo sembreranno tutte dei quadrati ok questo è fondamentale ok altrimenti non viene nel gioco insomma non viene bene guardate qui invece di new body mettete new component perché vi farò vedere dopo è più semplice da gestire ok adesso che cosa bisogna fare bisogna fare forse l'operazione più complessa tra le tante però vi faccio vedere non è estremamente complesso l'importante è che riusciate a seguire tutti i passaggi disattiviamo un attimo questo componente creiamo un nuovo componente costituito da una semplice scatola un semplice box questo box dovrà avere come dimensioni v per v per h di altezza ok anche in questo caso mettete il new component ok perfetto adesso svincolate se avete visto nel mio precedente tutorial ho fatto vedere che nelle ultime edizioni di fusion quando create un componente automaticamente il primo componente viene vincolato al parent quindi all'albero diciamo genealogico da cui dipende in questo caso non ci serve quindi cliccate col destra e fate un ground from parent e al contrario mettete a ground quindi mettete collegato al parent il nuovo blocco che abbiamo creato questo box ok perfetto a questo punto all'interno vedete del componente precedente adesso si attiva un ottimo box tutti questi piccoli body che abbiamo creato facciamoli diventare tutti componenti quindi basterà semplicemente selezionarli tutti ok e cliccare su new component vedete che automaticamente sono diventati tutti i componenti perfetto a questo punto selezioniamo prima tutte quelle di una riga purtroppo l'ordine con cui crea componenti fusion è un mistero che non so svelarvi perfetto erano così questo qui vabbè vincolato al parent sempre perché è il primo componente che abbiamo creato quindi togliamolo quindi dicevo stiamo selezionando solo per esempio la scritta inferiore ok e disattiviamo la visualizzazione pigiandovi sulla tastiera ok a questo punto che cosa dobbiamo fare dobbiamo allineare attenzione le facce anteriori per esempio di questa scritta tutte allo stesso lato dello stesso box come lo facciamo con lo strumento allinea questo qui ok è molto semplice è veramente semplice andate sulla faccia vedete quando andate sulla faccia vi appaiono una serie di maniglie quella che a noi interessa è questo quadratino che vedete qui al centro lo vedete questo quadro non il triangolo ma quel quadratino siccome quando andate sul quadratino vedete perdiamo la selezione della faccia quindi sembrerebbe impossibile selezionarlo che cosa il trucco qual è tenere pigiato sulla tastiera il tasto control vedete a questo punto control fa sì che la faccia che avete selezionato non la perda e così riusciamo a selezionare questo quadratino vedete selezionato quel quadratino gli diciamo di volerlo allineare allineare con lo stesso quadratino di questa faccia del box perfetto vedete senza uscire dallo strumento allinea possiamo procedere con le successive quindi questo mettiamo sempre qui questo per qui ecco già vedete che la o è leggermente più grande nonostante il carattere sia monospace ma non fa nulla perché è di poco la differenza ok quindi avete visto allineato tutte le lettere sulla stessa faccia di questo box perfetto a questo punto disattiviamo la visualizzazione di queste lettere e attiviamo le altre lettere perfetto procediamo allo stesso modo ma questa volta facciamo una cosa diversa allora innanzitutto io vi consiglio di ruotarvi prima le lettere perché potrebbe insomma potrebbe ruotarvi fastidio dopo quindi andate in modify move selezionare tutte queste lettere qui anziché bodies selezionate components sbagliato e li ruotate seguendo quest'angolo qua di 90 gradi così è più semplice per dopo procedere con l'allineamento a questo punto quindi quindi modifai align e facciamo la stessa operazione che abbiamo fatto prima però su quest'altra faccia vedete ecco perché l'ho ruotato così facendo a ok mia colpa purtroppo può capitare che nell'allinearlo vi succeda questa questa situazione qui vedete che si è girato di 90 gradi basterà andare a cliccare qui su angle e ritornerete esattamente nell'angolo che a noi desidera che noi desideriamo avere ok quindi vediamo succede la stessa cosa qui probabilmente se vi succede per una lettera vi succederà per tutte quindi state attenti a cliccare sempre su angle e ovviamente questo è un cerchio quindi non dovrebbe darci ops ho sbagliato io state attenti al quadratino che selezionate qui deve essere quello centrale della faccia perfetto a questo punto che abbiamo allineato tutte le lettere in questo modo abbiamo quasi finito addirittura andiamo a catturare la posizione ecco perché vi ho suggerito di utilizzare la modalità per componenti perché per componenti noi possiamo andare a modificare l'allineamento di tutti i nostri oggetti e avere la gestione del ricollocamento di tutti questi componenti semplicemente in un'unica feature che è questa qui che vi appare quando fate capture position cattura la posizione ok? adesso viene la parte forse un po' più noiosa ma sicuramente quella più divertente dobbiamo andare a trovare le lettere omologhe quindi se il nostro testo era testo prova la t deve corrispondere con la p la e dovrà corrispondere con la r e via discorrendo quindi un modo per fare la cosa un po' più intuitiva è andare a magari a rinominare i nostri componenti e dargli delle lettere di riferimento ovviamente dobbiamo anche associare qual è il testo se è il primo o il secondo perché per esempio questa o appartiene al primo testo quindi io direi di fare o1 mentre s che appartiene al secondo testo s2 allo stesso modo v vedete appartiene al primo testo la r appartiene al primo testo la e al secondo invece e così via ok? ovviamente questa è un'operazione che potete fare tranquillamente anche nella fase precedente che insomma è del tutto irrilevante adesso mi serve giusto per poter distinguere le lettere tra l'altro questo è un caso abbastanza semplice perché sono solo 5 lettere poi nel caso in cui ne doveste avere molte di più magari vi conviene farlo prima perfetto, quindi come vi dicevo la p deve corrispondere alla t questa qua di testo ok? a questo punto molto semplicemente non dobbiamo fare altro che utilizzando lo strumento combine andare a usare l'intersezione tra questi due corpi ok? a questo punto vi potete anche anzi no non attivate new component altrimenti non vi cancella le lettere precedenti vabbè, lasciamo in questo modo tanto è uguale ok? ecco fatta la prima lettera che nascondiamo la seconda è r di prova e la e di testo facciamo la stessa operazione pr o o 1 t e s di testo poi la v e la seconda t e la seconda t e infine la o ecco là ecco là ed ecco fatto adesso ovviamente ci sono dei componenti che saranno vuoti perché che cosa è successo? nell'intersecare le varie lettere alcune hanno ereditato il body altre invece l'hanno perso le apriamo le apriamo tutti così ci rendiamo conti di quali sono quelli vuoti vedete questo qua è vuoto questo qua è vuoto questo è vuoto questo è vuoto questo è vuoto e questo è vuoto e sono cinque a questo punto cliccando col destro possiamo fare remove mi raccomando remove e non delete così puliamo un po' l'albero va bene? perfetto adesso dobbiamo procedere con gli allineamenti e la cosa è molto molto semplice allora vedete che sono tutti del secondo vedete della seconda scritta quindi testo la prima t è questa poi e s t o ok? è importante questo questo ordine allora che cosa facciamo? andiamo in modify facciamo un move mettiamo sempre compliance e scegliamo la prima lettera che è la t dobbiamo spostare questa lettera in questa direzione e in questa direzione di quanto di v volte rispetto alla posizione della lettera che vogliamo mi spiego meglio siccome la lettera la parola è costituita da cinque lettere abbiamo che la t centrale deve restare dove sta mentre la prima t si deve spostare di due posizioni verso sinistra e la o ovviamente di testo si deve spostare a destra di altrettanto due posizioni quindi che cosa facciamo? questa è la prima lettera abbiamo detto dobbiamo spostarla di due posizioni quindi io qui scriverò 2 per v allo stesso modo sposto di in quest'altro lato ovviamente in direzione negativa quindi meno 2 per v ripetiamo l'operazione questa volta con la e che si dovrà spostare solo di una posizione quindi meno v e di qua di un'altra oddio si è spostato scusate quindi dicevamo meno v e v continuiamo t e s dopodiché c'è la seconda t abbiamo detto la s sta al centro quindi non la dobbiamo toccare mentre invece questa qui va spostata di qua di v mentre di qua di meno v quindi una posizione e infine la o così come la prima t va spostata di qua di meno 2 per v e di qua meno 2 per v ok? vedete? quindi vi dovrà apparire in questo modo visto dall'alto adesso ecco la magia in una direzione vediamo questo nell'altra direzione vediamo questo ok? siamo riusciti a fare quello che c'eravamo prefissi ovviamente una volta spostati tutti i componenti andiamo a catturare la posizione per evitare che si spostino io vi consiglierei a questo punto di prendere tutti questi componenti qui ok? vincolarli al parent ok? ah no non è possibile farlo perché ah perché abbiamo fatto il remove no perdonatemi no anzi è proprio il caso di non farlo perché abbiamo fatto il remove precedente allora a questo punto per vincolarli e non farli muovere semplicemente gli diamo un vincolo di tipo rigid group in questo modo e possiamo vincolare al parent il componente padre ok? così facendo si muovono tutti quanti insieme e non non balla insomma all'interno l'uno rispetto all'altro dobbiamo però adesso creare quella che è una base che gli possa reggere queste lettere perché così ovviamente non si reggono soprattutto la p vedete che c'è uno sbalzo molto pronunciato quello che ho fatto io e che funziona abbastanza bene è creare una semplice base sotto queste lettere che ha un incastro fatto della stessa impronta delle lettere stesse vediamo come lo possiamo realizzare in modo molto semplice creiamo un nuovo componente andiamo a creare uno sketch sul piano di base e creiamo per esempio uno slot fatto in questo modo poi dopo lo sistemiamo dove allora qui innanzitutto diciamo che la linea deve passare a metà no a metà no perché non è simmetrico vabbè allora diciamo semplicemente che la linea deve passare per l'origine ok la larghezza di questo di questa base deve essere almeno la radice quadrata di 2 per v ok così facendo è giusto giusto quanto le lettere qui adesso io metto una linea orizzontale che mi serve solo per far sì che quest'angolo qui io lo possa fissare a 45 gradi vedete avendo fatto la radice di 2 per v qui mi trovo che la base è esattamente vedete lambisce esattamente i nostri quadrati che sono le basi delle lettere in realtà io vi consiglio di metterci qualche millimetro extra quindi diciamo che partendo da quello mettete almeno un 3 millimetri e in più questa diciamo questa distanza qui quindi che può essere calcolata sempre come la radice quadrata di 2 per v per il numero di lettere quindi 5 vedete va esattamente da quella da questo diciamo da questo spigolo a questo spigolo però vedete che sporge troppo quindi in realtà ci possiamo togliere una dimensione della lettera perché in realtà dobbiamo considerare anche un raggio quindi sarebbe per 5 questo è il numero di lettere meno 1 la formula corretta adesso dobbiamo in qualche modo centrarlo ovviamente anche qui vale il discorso che i 3 millimetri abbiamo aggiunti lì ce li ritroviamo anche da questo lato per centrarlo beh io avrei dovuto centrare la prima lettera in modo tale da sfruttare l'origine ma poco male insomma se vogliamo centrarlo e farlo in modo preciso possiamo fare in questo modo possiamo andarci a prendere la proiezione di questo oggetto e di quest'altro oggetto su questo piano ok ci andiamo a tracciare quella che è la congiungente tra questo vertice e questo vertice dopodiché diciamo che il punto medio di questa linea deve stare sul punto medio dell'altra linea ok non viene perché non coincidano vedo selezionare il punto vediamo un po' eh no eh vabbè forse per i 3 millimetri di distanza che ho messo vabbè allora facciamo così quindi togliamo la coincidenza nell'origine insomma questo è veramente il meno però così coincidono ho dovuto svincolare il vincolo che avevo nell'origine perché altrimenti non riuscivo a far coincidere questi due allineamenti ok allora a questo punto abbiamo questa sagoma che possiamo estrudere io vi direi di farla almeno di un paio di millimetri anche se ovviamente andrà a togliere la eh insomma il volume dalle lettere e dall'altro lato facciamo almeno alti 3 millimetri così che viene una bella base da 5 millimetri di spessore a questo punto con lo strumento combine andiamo a scavare all'interno di questo oggetto appena creato con lo strumento cut e tenendo keep tools tutte le lettere che abbiamo creato poc'anzi ok mi raccomando lasciate keep tools così non perdite le lettere fatto ciò ci ritroveremo adesso questo componente che possiamo chiamare lettere questo chiamiamo base questo il cubo dicevo adesso vedete abbiamo qui degli incastri dove poter collocare le nostre lettere io sempre perché trattasi di una stampa 3D vi consiglierei di andarci a mettere con un press full un po' di margine su queste superfici ok per selezionarle guardate è molto molto semplice basta fare un rettangolo intorno alle singole superfici ah ovviamente stiamo attenti che facciamo un offset quindi scegliamo magari offset face che siamo più sicuri di quello che andiamo a fare dicevo fate un rettangolo col control tenete premuto così che possiamo selezionare anche altre facce perdonatemi non control ma shift ok e direi che come offset va bene già un menu 0,1 se vogliamo esagerare 0,2 se non ce lo fa fare perché abbiamo delle forme un po' particolari vabbè vediamo quanto riusciamo a spostare insomma meno 0,5 ci riusciamo cerchiamo di fare quanto più riusciamo meno 0,1 solo meno 0,1 non riesce ok meno 0,09 quasi meno 0,1 quindi e poi vabbè vi potete divertire a creare un po' di che ne so di smusso qui per prendere più morbida la forma tutto quanto ok a questo punto abbiamo finito ci possiamo ecco giusto divertire poi a dare un po' di materiali se vogliamo ad esempio ne so possiamo fare la base in mogano lettere vediamo in pietra se esiste non so tipo marmo traslucente ah che devo installare perchè non ce l'avevo ancora ok e l'effetto insomma abbastanza carino andiamo a vedere nell'ambiente di rendering ecco l'effetto finale ecco l'effetto finale vedete prova testo vi avevo vi avevo promesso questo diciamo come viene quando le due parole da rappresentare sono costituite dallo stesso numero di lettere vi avevo promesso che vi avrei fatto vedere un stratagemme insomma un trucco qualora le parole non fossero uguali beh quello che si può fare è andare a riempire i vuoti con un simbolo ad esempio molto utilizzato è il cuore nel caso in cui si tratti del nome di due di due innamorati insomma è veramente molto semplice qual è forse giusto la difficoltà è che questo cuore che dobbiamo andare a disegnare deve rispettare sempre le dimensioni di quel famoso cubo che abbiamo costruito per rendere il testo visibile su due fronti ok vediamo come possiamo realizzarlo in modo molto semplice allora adesso faccio di nuovo un testo utilizzerò sempre come font moby quello che abbiamo visto prima ma vi ripeto potete utilizzare qualsiasi font l'importante è che sia un monospace ok se vedete vari siti insomma di raccoglitori di font online ce ne stanno veramente tantissimi allora facciamo che ne so la parola 3 forse è un po' troppo però vedete che qui il numero di lettere ovviamente è diverso allora che cosa si può fare? e beh innanzitutto la prima cosa da fare è cercare di centrare il più possibile le lettere rispetto alla parola più lunga quindi nella fattispecie vabbè qui vedete vedete una fattispecie adesso ho fatto in questo modo ho aggiunto due spazi vedete quindi adesso che cosa ho? come diciamo qual è il problema che devo risolvere? che ho due vuoti da riempire sia qui che qui e lo devo fare come vi dicevo con un simbolo che sia utilizzabile con tutta la struttura con tutta la diciamo la la costruzione che vi ho fatto vedere prima quindi che cosa faccio? esplodo comunque il testo ok mi vado a costruire ah facciamo di nuovo quelle misure che abbiamo fatto prima quindi quella che prima qui avevo chiamato larghezza e altezza le continuerò a chiamare come le chiamate quindi vado qui vado a prendermi queste due misure guida e questa qui è la mia V e questa è la mia H e vado a costruirmi un rettangolo che ha esattamente come altezza H e come larghezza V molto semplicemente ok? se vogliamo vedere all'interno poi della composizione qual è l'effetto che fa basterà semplicemente dire che questo lato qui lo voglio allineato con questo e questo lato qui per esempio lo voglio allineato con questo e ho fatto come costruisco il mio cuore il cuore che possa essere una stella che possa essere qualsiasi forma che vogliate io per esempio il cuore siccome è simmetrico me lo andrei a costruire solo metà e lo facciamo o con una semplice spline quindi vedete veramente molto semplice dove poi posso andare a giocare con altre tangenti ok? vedete ho fatto faccio la simmetria ed ecco fatto il mio cuore ovviamente il rettangolo esterno lo posso rendere come linea di costruzione oppure se vogliamo un'altra forma possiamo fare un'altra forma come vi dicevo l'importante è che rispettiamo queste dimensioni di massima di V e H anche qui allineiamo con questo in questo caso qui è un po' più complicato allinearlo con la Q perché abbiamo un cerchio però posso fare una linea tangente non mi riconosce non mi riconosce la circonferenza vabbè è un po' più antipatico di quello che sembrava però possiamo fare così e allineare questo con questo ci sto per vedere poi nella composizione come va ok per esempio qui che ne so possiamo fare una stella ma lo so possiamo costruire con con lo stile che ci che più preferiamo ma andrà bene uguale insomma forse ecco potrebbe andare bene così giusto per farvi vedere che poi alla fine le lettere si incastreranno lo stesso vado a fare l'estrusione di giusto queste due queste abbiamo detto che sarà V mi raccomando un componente vado nel componente seguo esattamente gli stessi passaggi ok faccio i quattro oggetti ovviamente quelli che vanno ah ovviamente devo creare il cubetto che stavo dimenticando quello purtroppo è l'unico modo che ho trovato per poter effettuare questo allineamento forse è il trucco che più di tutti che vi da un'idea di come fare questo oggetto ok ok non ho dimenticato di creare l'unico questo lo togliamo al parent questo lo togliamo al parent secondo me questo ok e a questo punto andiamo ad allineare tutto 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 prima quindi questa la rendiamo con questa 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 potreste se volete fare anche direttamente così senza ruotare prima dovete solo stare attenti ovviamente alle fracce che selezionate e alla fine il passaggio è prettamente lo stesso ok a questo punto era la stella con la q mi sembra ok facciamo ovviamente si controlliamo la posizione dimenticato di farlo intersezione togliamo il mio component e lo stesso vale per questi due eccole qua vedete abbiamo ottenuto le due lettere vedete q e u intersegate con questi due simboli ok ho fatto la stella insomma quindi così facendo con questo stratagemma voi potreste rappresentare qualsiasi tipo di testo vogliate anche se la dimensione delle parole ovviamente dovesse essere diversa ok quindi abbiamo visto molto semplicemente come creare questa scritta bifronte potete divertirvi sbizzarrirvi con qualsiasi font mi raccomando l'unica l'unica cosa cui bisogna prestare attenzione è che questi font siano monospace questo font in particolare che ho scelto io è molto schiacciato in realtà l'altezza è abbastanza arbitraria non le ho voluti stirare non le ho voluti tirare altrimenti avrei snaturato un po' quella che è l'estetica del font stesso quindi però se volete divertirvi ovviamente a creare lettere più alte potete farlo senza problemi l'importante lo ripeto per un'ultima volta è che questo font che voi scegliete sia effettivamente un font monospace io come sempre spero che questo tutorial vi sia piaciuto che vi sia ritornato utile soprattutto e vi auguro buon divertimento con Fusion 360 è più semplice